Allora ragazzi, buonasera a tutti, noi siamo i Broad Brothers e credibilmente siamo tutti ricornesi. Come mai, come mai? Una domanda che ci viene fatta spesso dopo concerti, ma perché? Perché fate questa musica? Perché solo questa musica? Allora prima, una breve storia, quando avevo 16 anni, già studiavo musica da piccolo, facevo pianoforte, poi chitarra, riuscivo bene a trovare la mia strada, poi mi segnai al conservatorio con un percussione dove mi sono difumato, infatti, non sono tanto buono, no? Queste sfide, prova la lezione del maestro. Un altro discorso. A 16 anni suonando tutti i generi impossibili, rimasi colpito in televisione da quest'uomo forte, ma non era tanto il braccio potente che mi piaceva, mi piacevano tutte le cose che c'erano dintorno, allora siccome mi piace molto approfondire le cose che mi interessano, allora andai a vedere chi era questo uomo e una volta fatto il primo scalino verso i testi e scriveva, ho scoperto un mondo incredibile. Ho scoperto un uomo che diceva tutto quello che volevo dire e ho scoperto un compositore particolare che veste le sue canzoni con una musica semplice ma che è impressionante come il vestito musicale di ogni testo sia perfetto per ogni canzone. Voi se fate questo sforzo minimo di leggere il testo di una canzone di Splisty scoprirete il testo, cioè il vestito perfetto, la musica ci sta, è quella, non può essere un'altra, quindi la composizione diventa una sorta di magia, quest'uomo diventa magico, quindi non è tanto il toccarlo, andarlo a trovare, ma è questa cosa che sentiamo tutti noi, che lo ascoltiamo e che ci fa sognare e fondamentalmente ci fa stare tanto tanto bene, quindi la risposta è questa, finché si sta bene e siamo tutti insieme. Tanto vale divertirsi. Allora poi, suonando la batteria, non riuscivo a capire come poter fare un gruppo, cercavo qualcuno che fosse appassionato quanto me e un c'era, 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 ho dovuto farlo io, lo faccio io, allora l'ho fatto e non pensavo di fare tutto questo, poi non riuscivo a trovare neanche dei musicisti appassionati perché Splisty è talmente semplice musicalmente che viene snobbato molto dai musicisti studiosi, perché spesso non si legge appunto quello che dice o stiamo attenti alla tecnica e cose varie, quindi abbiamo iniziato, pensate che di questi non ce l'era nemmeno uno quando iniziò, e piano piano ho trovato queste persone meravigliose che ora sentite questo suono e non ve lo dimenticate mai perché questo è il suono del mio gruppo che si chiama Blood Brothers e loro tutti sono persone che quando suonano si connettono totalmente con l'anima e creano questo suono, cioè un suono deriva da tutte queste anime insieme e non è stato semplice per niente perché insomma siamo nove, c'è anche, ora vedete tutti questi, questo perfio vi, però c'è anche Mike, si vede, quindi applauso a Mike, quindi insomma questo è per voi ma anche per questi ragazzi che sono la mia vita perché mi fanno star bene, questo è per loro. Vai Andy, spacca tutto! grazie a tutti! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti